Paolo Sanz, lei è il primo assessore leghista del Comune di Cagliari, con la delega alla sicurezza, quali saranno le sue priorità? Allora, le mie priorità saranno quelle, nel costume della Lega, di sentire per primi i cittadini, perché avvertiamo tutti quanti bisogno di maggiore sicurezza nella città e quindi la mia prima mossa sarà quella di andare a sentire quali sono i problemi, quali sono le esigenze e in che modo possiamo metterci in riparo.